La c'è il mare, e nel mare entra questo fiume. Sono bellissime case, strane, tutto di legno, tanti, un po' di barche, ma non si vedono pesca adesso, ci hanno tutte le ragazze con le condamini indietro, e il Royal Garden Hotel tutto in vetro, tutto in vetro, guardiamo dall'altra parte del canale, tutte le case sono sui pali, parzialmente, non totale, e là in fondo c'è il Duomo, l'Italia, non è un paio, ma non è il nostro, un paio, è l'Italia, un paio, è l'Italia, è un paio, è l'Italia, è l'Italia, che sono un paio, è l'Italia, è il nostro c'è il Yorgovan, c'è piccola bricca, piccolo ponte in legno e dietro c'è un grande una grande chiesa forse lo ponte in legno ponte di legno movi nel 1860 costruita in legno